Fin dagli inizi di marzo ci siamo adoperati per declinare anche sul nostro territorio tutte le disposizioni contenute nei vari DPCM che si sono susseguiti. Abbiamo la fortuna di avere un tessuto associativo molto forte a Condove. Abbiamo come prima cosa aperto il COC, il Centro Operativo Comunale, coinvolgendo la Protezione Civile, coinvolgendo la Croce Rossa, coinvolgendo i Vigili del Fuoco, coinvolgendo la nostra squadra di antincendi boschivi, coinvolgendo la Polizia Municipale e tutta la struttura dell'amministrazione comunale. Siamo riusciti a garantire in queste settimane una piena fruibilità del mercato settimanale che è stato contingentato, che è stato realizzato solo con gli operatori che hanno un commercio di prodotti alimentari e che si svolge tutte le settimane, il mercoledì mattina, in piena sicurezza. Tantissimi condovesi, oltre 60, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, si sono messi in contatto con l'amministrazione comunale e si sono resi disponibili per compiere delle azioni di volontariato. Siamo riusciti a organizzare un gruppo di volontari che si sta occupando da metà marzo di consegnare a domicilio delle persone sole, degli anziani fragili, di tutti i nuclei familiari che hanno delle difficoltà, sia la spesa, sia la consegna dei farmaci. Abbiamo organizzato un servizio che si chiama Telefoniamo a Condove. Lo abbiamo fatto grazie alla disponibilità di alcuni condovesi che hanno contattato 300 persone telefonicamente, chiedendo loro come stavano, qual era il loro stato di salute, se si sentivano sole. Un altro servizio molto apprezzato a Condove è Sportello Amico. Un servizio gestito esclusivamente da volontari comunali, che da anni si occupa di accompagnare presso ambulatori, ospedali e studi medici specialistici, tutte quelle persone che non hanno una rete sociale e che hanno però la necessità di avere delle cure mediche o sanitarie. Abbiamo voluto affrontare anche un tema molto dibattuto in queste settimane, quello delle mascherine. Lo abbiamo fatto in collaborazione con i medici di base di Condove e abbiamo redatto un elenco di cittadini condovesi che hanno delle difficoltà mediche o che hanno un quadro clinico complicato. Ecco, a queste persone, che sono quasi 500, l'amministrazione comunale nei prossimi giorni consegnerà a casa, a ognuna di loro, una mascherina lavabile e riutilizzabile. Avremo anche la necessità di mettere mano a quella emergenza economica che in maniera sempre più forte sta emergendo. Noi in questi giorni abbiamo voluto partire nella maniera più rapida possibile con la distribuzione dei buoni spesa erogati dal governo. Questa è una sfida che si vince di comunità, che si vince con il senso di appartenenza. I decreti, i divieti, le sanzioni, quelli sono necessari, ma valgono per i furbetti, valgono per quelli che non hanno ancora capito la gravità della situazione. I condovesi, così come la stragrande maggioranza degli italiani, si stanno comportando bene. Hanno capito che per portare a casa il risultato dobbiamo essere uniti e dobbiamo seguire quelle che sono le regole così complicate di questo periodo. È una sfida che si vince con l'unità e con la solidarietà. Ed è per questo che vi voglio lasciare con una storia davvero eccezionale. Abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi. Dei soldi che serviranno per sostenere tutte le attività legate alla lotta al coronavirus e per sostenere quelle famiglie che sono in difficoltà o che nelle prossime settimane avranno necessità di aiuto. Ebbene, in solo dieci giorni, a Condove, 4.600 abitanti, abbiamo raccolto oltre 5.200 euro. Una cifra importantissima, inaspettata, che ci fa capire che nelle comunità, nei piccoli paesi c'è un senso di appartenenza che è la chiave per vincere questa sfida.